E' andata in archivio la seconda edizione di Alpinatlon, il Duatlon Corsa a Piedi e Scialpinismo organizzato dalla Fondazione Cortina in collaborazione con il Comando Truppe Alpine dell'Esercito e l'Associazione Nazionale Alpini. Un esempio di sinergia con il mondo civile. Cerchiamo insomma sempre di ampliare quello che potrebbe essere il bacino di interesse di queste attività tipicamente sportive agonistiche fatte da noi ma fatte anche in ambito civile. Sono stati oltre 150 gli atleti che si sono sfidati sui sentieri e sulle piste ampezzane. La gara prevedeva una prima frazione dedicata alla Corsa a Piedi con partenza da Corso Italia e arrivo a Riogere e una seconda dedicata allo Scialpinismo nella quale gli atleti dovevano salire da Riogere a rifuso Capanna Tondi per poi scendere a rifugio Faloria dove era posto il traguardo finale. A livello individuale e maschile la vittoria è andata al valtellinese Daniel Antonioli con il tempo di 1 ora e 14 minuti. Ci tenevo a tornare a Cortina dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso, la vittoria e ce l'ho fatta a mantenere il titolo all'Alpina. Ho tenuto duro ma prima o poi è giusto che arrivare anche un cambio di generazione ma finché ce la faccio tengo duro. Tre le bellunesi sul podio femminile. A vincere è stata l'atleta di Padula di Comelico Martina De Silvestro che ha avuto la meglio su Cecilia De Filippo e Linda Menardi. Avevo corso poco perché a inizio stagione da me c'è ancora molta neve allora avevo corso molto poco. Sapevo che la mia rivale Cecilia De Filippo era molto veloce sui muri, sulle pendenze ripide ho provato a fare un po' la differenza sul tratto di corsa, mi sono trovata abbastanza bene e poi ho cercato di mantenere anche sul pezzo di sci alpinismo, nel cambio ho cercato di fare il mio meglio e sono stata comunque un po' lenta, però no è andata bene. Con questa manifestazione la Fondazione Cortina chiude il pacchetto di eventi invernali che li ha visti impegnati in tante discipline come lo sci alpino, lo snowboard, lo sci paralimpico e lo sci alpinismo. Si chiude un periodo molto lungo, molto bello, entusiasmante, di tantissime gare e il parere degli atleti che è sempre quello che io ascolto con molta attenzione, è un parere molto positivo è molto importante avere delle occasioni di questo livello per far lavorare insieme le persone del territorio specializzate negli sport invernali.